Buonasera, di Mario Benedetti, Quando uno si innamora. Quando uno si innamora, le squadre del tempo fanno scalo nell'oblio, l'infelicità si riempie di miracoli, la paura diventa audacia e la morte non esce dalla sua grotta. Innamorarsi è un presagio gratuito, una finestra aperta all'uovo albero, un'impresa di sentimenti, una bonanza quasi insopportabile e un esercizio contro la sfortuna. Al contrario, disinnamorarsi è vedere il corpo com'è e non come l'altro sguardo lo inventava, è tornare più povero al vecchio enigma e incontrare la tristezza allo specchio.